A presto Francia, sali su questo furgone nero senza finestrini Penso che i sondaggi ufficiali siano un po' come se il governo ci inviasse dei cazzi via mail Non li ho chiesti e non mi fido Confermano una percezione imposta artificialmente con largo anticipo E chi ci casca merita di scoprire a doppie spese che la realtà è ben diversa Questi sondaggi non valgono niente Andy L'altro giorno ne leggevo uno Saltava l'idraulica di Londra che però fa schifo al cazzo Cioè abbiamo tecnologie che faccio la rivoluzione Ben capace Idiota, non ritardo No, no, sicurati Telecamere che guardano altre telecamere? Tipo un influencer egocentrico che non dorme se non è riuscito a monetizzare il suo soldi E' la fine della società, no? Ormai ci sono solamente telecamere E' un'altra telecamere Mente Io non credo più né alle notizie né alla realtà Ormai i titoli non iscrivono... Voglio di carta e una penna Ti ricordi? Carta e penna, quelli erano bei tempi Adesso mi scrivo da solo i titoli che voglio leggere Faccio il mio quotidiano personale Ecco qua Se dici che la merda di uccello sulla tua auto è una valuta legale Nessuno può smentirti Dichiara il ministro per il karaoke degli illuminati Oh, un altro titolo Il primo ministro annuncia la ripresa dopo aver scambiato tutte le proprietà della famiglia reale con Pagioni Magici Aspetta facciamo qualcosa per dare una scossa a la politica Ecco il fogolo gridando questo Gli agenti albio Aspetta Questo è il centro di detenzione Albion. La giornalista che stava indagando sui rappimenti illegali del Sirs dovrebbe essere lì dentro. La giornalista che stava indagando sui rappresentanti. Come ci vuole? Stai facendo un sgrasso! Le crimine rilevate le linee a vicino. Andiamo! 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 Non vi piace. Meglio bloccarlo. Falla nella sicurezza. Cercate l'intruso. Non c'è nessuno qui. A tutte le unità, uno o più sospetti nella vostra zona. Intervengo. Passo. A tutte le unità, intervenite. C'è una sparatoria. Mandate unità di supporto. Centrale, ci serve un'ambulanza per un agente. Centrale, inseguiamo il sospetto. Centrale, ho perso il bersaglio. Un'arma! 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 Non vedo il bersaglio. Smetto di inseguire. Passo. Beh, basta. Smetto di cercare. Questa zona è vietata. Un'arma! Un'arma! Oddio, che schifo Eh, non fare resistenza Non vedo più il sospetto Non può sfuggirci Dobbiamo cercare ovunque Prima o poi dovrai uscire allo scoperto Impecile Nessun contatto Procedo C'è un uomo a terra, spesso Qui c'è qualcuno a terra Qui niente, passo oltre Via libera Attendo istruzioni Qui c'è un uomo a terra Siamo qui per proteggere Cittadini di Roma Non opponete resistenza Fermati O sarai in arresto Attenzione La prosecuzione delle attività illegali porterà all'arresto La disobbedienza La disobbedienza porterà misure estreme La prosecuzione delle attività Questa è una scoperta Questa è un uomo a terra Qui c'è una scoperta La scoperta La scoperta La scoperta La scoperta La scoperta Sono disgustata. C'è il traccio del bersaglio. Portala via. Bersaglio avvistato. Bersaglio avvistato. Risparmiati la fatica e la prendisi. Ho colpito il sospetto. Bersaglio avvistato. Bersaglio. Bersaglio avvistato. 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 Bersaglio avvistato.